Esistono alcune rare malattie endocrinologiche caratterizzate da una grave riduzione dei livelli di calcio nel sangue. Questo porta ad importanti conseguenze, soprattutto a livello neuromuscolare. Tipicamente queste condizioni sono causate da una riduzione nella produzione di un ormone che si chiama paratormone o PTH o da una resistenza all'azione dello stesso, quindi i tessuti periferici non sentono l'azione dell'ormone. Le persone affette da queste condizioni hanno tipicamente una qualità della vita estremamente compromessa. Manifestano sintomi quali i formicoli diffusi, crampi muscolari, difficoltà di concentrazione e quando questi si aggravano portano ad avere crisi tetaniche, crisi convulsive con numerosi accessi in pronto soccorso. In alcuni casi la diagnosi è tardiva, in alcuni casi è molto tardiva e quindi i pazienti non arrivano tempestivamente ad avere la cura più appropriata. Grazie ai progetti di ricerca finanziati dal 5 per 1000 donato al Policlinico di Milano stiamo cercando di approfondire le nostre conoscenze su queste condizioni, sia tramite l'utilizzo di tecniche sempre più avanzate, soprattutto per arrivare a una diagnosi genetica sempre più precoce e dall'altra parte anche ricercando terapie sempre più efficaci. Grazie a tutti.